Proseguono gli appuntamenti del Napoli Teatro Festival Italia nella fagianeria di Capodimonte e lo spettacolo Troia City. Sentiamo, Maria Laura Massa. Sulle tracce di una tragedia perduta un investigatore compie un'indagine per metterne insieme i pezzi, fare luce sui vuoti, ricostruirne storia e personaggi. Alla fagianeria di Capodimonte per il Napoli Teatro Festival Italia inscena Troia City la verità sul caso Alexandros, uno spettacolo di Lino Musella, Antonio Piccolo e Marco Vidino, liberamente ispirato ai frammenti dell'Alexandros di Euripide, opera che ci è giunta incompleta, una sorta di prequel della guerra di Troia. Una produzione teatro in fabula, quartieri dell'arte Galleria Toledo per la regia di Lino Musella. Si propone di entrare lentamente nel racconto di questa vicenda che non conosciamo per farci fare una riflessione sull'identità di un personaggio classico che in questo caso diventa moderno perché scopre la sua dualità, il suo doppio. Sullo sfondo la distruzione di Troia, l'incendio della biblioteca di Alessandria, la perdita dell'infanzia, un mondo del passato che tenta di riprendere vita con il suono di un racconto, con una voce che canta in greco e le note degli strumenti che suonano dal vivo.